ciao a tutti e benvenuti da marco in questo nuovo tutorial per photoshop dedicato a come unire diversi file aperti o da pescare all'interno di una cartella in un unico nuovo file grazie a una domanda che mi ha fatto michele e che adesso troverà risposta come al solito photoshop ci da diverse opzioni per poter fare la stessa operazione sostanzialmente ora in questo caso ipotizziamo che dobbiamo mettere insieme tre immagini simili tra di loro anche se diverse per inquadrature in questo caso sono tre panorami della campagna romagnola con lo sfondo di san marino li vogliamo inserire all'interno di un nuovo file dove abbiamo tre livelli diversi photoshop permette di inserire i file su diversi livelli se lo dovessimo fare a mano dovremmo fare questa operazione prendere il livello e importarlo su quello nuovo ecco che lo avremo ma così facendo perdiamo leggermente tempo più tempo e soprattutto non riusciamo a essere totalmente precisi photoshop ci dà diverse opzioni le andiamo a vedere la più veloce è quella di andare in file script load file into stack in italiano sarà file script carica file in serie si apre una finestra dove io la possibilità di scegliere i miei file o addirittura delle cartelle andandone a cercare all'interno del mio computer in questo caso però le immagini già le ho inserite all'interno di photoshop quindi decido di cliccare qui ad open files in italiano apri file aperti ed ecco che già mi appaiono i tre file che io ho aperto all'interno di photoshop possiamo vedere sotto che ci sono diverse opzioni due in questo caso che ci permettono di fare operazioni aggiuntive all'interno di questo automatismo ad esempio attempt to automatically align source images ovvero tenta di allineare automaticamente le immagini sorgenti oppure create smart object after loading layers cioè crea degli oggetti avanzati dopo aver creato i livelli caricati ora non andiamo a vedere queste opzioni poi ve le farò vedere almeno per quanto riguarda il fatto dell'allineamento delle immagini però per adesso non ci interessa andare ad approfondire questo automatismo clicco quindi ok ho aperto le mie ho inserito le mie tre immagini e photoshop in meno di un minuto mi carica i miei tre file all'interno di un unico nuovo file su livelli differenti semplice lo rifaccio file script load file into stack had open file le ho messo tutte e tre a questo punto faccio tenta di allineare automaticamente le immagini sorgente di nuovo photoshop fa partire il suo automatismo questa volta ci mette leggermente di più le foto sono inserite ma come potete vedere sono state create delle zone trasparenti perché photoshop ha allineato le immagini secondo quello che è l'orizzonte che ha trovato facendo in questa maniera ha dovuto rimodellare l'immagine su un file più grande su un'area di lavoro più grande e quindi ha creato delle zone trasparenti quelle zone trasparenti poi noi semplicemente possiamo andarcele a rimpicciolire a togliere con lo strumento taglierina in maniera molto 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 semplice molto banale ho quindi le mie tre immagini questa volta allineate tra di loro secondo metodo il secondo metodo parte sempre da file automate automatizza fotomerge sarà file in italiano automatizza rimane fotomerge qui abbiamo una nuova finestra dopo che l'ho cliccata che ci dà diverse opzioni ad esempio il tipo di layout questi sono tutti dei delle possibilità che vengono usate soprattutto per le foto composizioni panoramiche fotomerge infatti serve per la creazione di foto panoramiche o di hdr in questo caso io clicco auto perché voglio lasciar fare a photoshop tutto il lavoro avrei potuto fare prospettiva per mantenere la prospettiva tra le varie immagini cilindrica o sferica per creare i famosi effetti 360 il collage se ho delle immagini che devono andare oltre che in orizzontale anche in verticale il riposizionamento se ho delle immagini particolari che hanno bisogno di un appunto riposizionamento per poter essere coincidenti con le altre immagini che noi abbiamo anche qui io ho la possibilità di lavorare scegliendomi i file o le cartelle all'interno di del mio computer dove ho già scelto dove ho già individuato più o meno dove possono essere anche in questo caso visto che sono ho già le immagini aperte scelgo di fare add open files quindi aggiungi file aperti ed ecco che mi appaiano all'interno dei file sorgente che devo usare qui ho anche altre opzioni ad esempio blend images together cioè fondi le immagini tra di loro oppure togli l'effetto vignetta oppure correggi la distorsione geometrica infine riempi le zone trasparenti create dopo l'automatismo anche in questo caso quando sarà il momento vedremo nel dettaglio queste opzioni io vi invito comunque a provarle per adesso ci affidiamo all'automatismo totale quindi layout auto e fondi le immagini insieme e ok Photoshop stiamo vedendo che sta lavorando ricampionando leggermente le immagini le analizzate e ci ha creato ci sta creando il nuovo file questa procedura è leggermente più lenta rispetto all'altra ma semplicemente perché così facendo noi abbiamo finalmente le tre immagini inserite in un nuovo livello che qui viene chiamato un taglio panorama perché come dicevo il fotomerge viene usato specificamente principalmente per i panorami ma non specificamente per loro abbiamo delle zone vuote che se avessimo cliccato su una delle opzioni che abbiamo visto prima sarebbero state riempite ma la cosa più importante è che con questo automatismo i file sono stati messi allineati lungo la linea dell'orizzonte così come nell'altro file ma sono stati anche mascherati ecco vedete che la maschera fatta su ogni livello cioè Photoshop ha scelto grazie ai suoi algoritmi quali sono le parti più importanti di ognuno di queste immagini da usare nella composizione finale ovviamente queste immagini queste queste maschere io posso decidere di non usarle o modificarle come voglio semplicemente pennellando col bianco e col nero sul livello della maschera in questo caso il nero quindi la cancello se avessi il bianco l'aggiungerei e questo mi dà la possibilità di avere già elaborati da Photoshop che mi velocizzano enormemente il lavoro perché mi toglie una parte del lavoro che devo fare di maschere e mi permette di concentrarmi sulle parti che mi interessano quindi ripetiamo i due comandi per poter inserire più immagini all'interno su diversi layer all'interno di uno stesso file abbiamo file, script, load file into stack in italiano sarà load, file, script, carica file in serie oppure file, automate, file in italiano automatizza, photomerge per questa volta è tutto grazie per avermi seguito e alla prossima mi raccomando mettete mi piace sul mio canale ciao